Anticipazioni Il Segreto Giovedì 30 maggio 2019 Tra Fernando e Raimundo volano minacce e offese molto pesanti. Maria convoca suo nonno in gran segreto e gli ribadisce che la strategia da seguire con il Messia è una sola, dargli fiducia. Alla fine la donna confessa in presenza dell'uomo che Beltrán ed Esperanza sono vivi e non morti durante l'incendio esploso nella sua abitazione a Cuba. Eustaquio Molero dice di non essere giunto fino a Puente Vieco per discutere con il Santa Cruz, bensì per fargli qualche domanda e una proposta. Tutti temono che si tratti di una trappola e consigliano a Severo di non farsi vedere. Lui però non intende affatto nascondersi. Quando poi i due si incontrano, tutto sembra indicare che risolveranno i loro alterchi in maniera non del tutto pacifica. Ma ecco il grande colpo di scena. Grazie a tutti.